Per l'arma di Carabinieri è previsto un potenziamento delle dotazioni di personale per 371 unità solo nel 23. Come sapete noi abbiamo previsto, parliamo della legge finanziaria per il 2023, un fondo per le assunzioni delle forze di polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con una dotazione di 90 milioni di euro per il 23, 95 per il 24 e il 25, quasi 126 milioni di euro per gli anni successivi, per la Guardia di Finanza un incremento della dotazione dell'organico per 289 unità, per la Polizia Penitenziaria viene istituita la carriera dei medici con una dotazione complessiva di 102 unità del personale e per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il fondo prevede l'assunzione di un contingente di 1.020 unità, 851 a decorrere dal 1 settembre 23 e 169 dal 1 gennaio 2026 e la rimodulazione della dotazione organica del Corpo Nazionale con l'incremento di 55 unità di primi dirigenti.